Tra poco ci saremo noi con Casa Dianello. Che cos'è? Che cos'è Casa Dianello? Che cos'è? Che cos'è? Un telefilm. Un telefilm, una sitcom. Una sitcom? Sì. E cos'è la sitcom? Una situation comedy. Ah, noi stiamo facendo una situation comedy? Come stiamo facendo? Si capisce che stiamo facendo? Situation comedy, Casa Dianello, tra poco. Tra poco. Io e lui? Sempre. Insieme. Sì. Sì.